la civiltà meno evoluta nel senso di evoluzione scientifica che io ho conosciuto di esseri quelli che qui sulla terra chiamano grigi ma sono bellissimi è una civiltà molto avanzata ce ne sono tante di quelle civiltà di quel tipo umanoide che fanno parte della confederazione hanno superato la velocità della c'è un documento che è stato realizzato sono al loro servizio grazie o a causa della manipolazione mediatica certi film certe serie televisive questi particolari esseri che noi chiamiamo grigi c'è una foto particolare che è stata scattata in messico dove una di queste entità che ti arriva più o meno a metà della tua altezza ti sta sorreggendo quindi loro partecipano attivamente assolutamente sono le mie guardie del corpo nel mio caso sto parlando di milioni di casi nel mio caso c'è un comandante extraterrestre di una razza diversa alto biondo bellissimo che si chiama set in scena che indirizza loro come proteggerli sia fisicamente nel senso se sto male se sono assistito da fratelli o sorelle o dalla mia famiglia loro osservano ma se sono solo come in quel caso ero di fronte a 3 mila persone io stavo cadendo dal palco avevo 40 di febbre è un palco più alto di questo e quindi che hanno assistito mi hanno fatto evitare di cadere si poi mi ha dato l'energia necessaria questi sono esseri evolutissimi ma ci sono anche dei robot biologici che sembrano loro ma non sono loro ma non cambia niente perché la programmazione la programmazione è la stessa nel caso benevolo anche nel caso se devono fare del male se qualcuno e non è programmato da dio vuole farmi del male loro lo neutralizzano se necessario lo uccidono dipende quello che può una persona cosa vuole farmi quindi giorgio per difesa ma è legittima difesa è scritto un messaggio di recente che parla di questo legittima difesa loro loro non attaccheranno mai l'umanità però la contemplano anche una risposta militare loro non attaccheranno mai l'umanità ma se noi ti informo intanto che mi hanno detto questi esseri con i quali non vivo che l'uomo sta creando un'arma speciale contro di loro che potrebbe distruggere astronauti non quelle degli esseri di luce ma quelli della dei fratelli chiamiamoli che visitano fisicamente il nostro terreno e quindi le civiltà superiori hanno dato ordine difendersi ed eventualmente distruggere chi li attacca